Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Stavano trascorrendo qualche giorno da soli a Parigi, come una vera coppietta di innamorati. Ma c'è qualcuno che voleva probabilmente rovinargli la serenità. E per questa ragione hanno deciso di chiamare i loro avvocati. Per questo motivo l'influencer mette in guardia. I nostri avvocati hanno preso provvedimenti seri nei confronti della mitomane che si rinnova sotto vari profili. E poi Clizia Incorvaia ha spiegato. Adesso basta. Di fronte alla sua continua violenza verbale e ossessione, abbiamo finalmente rintracciato il profilo. E sarà molto grave, la pena, a cui sarà sottoposta. Infatti, i difensori dei due VIP sono stati in grado di rintracciare la stalker in questione, che ora rischia guai grossi. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.